Ivan Fyodorovic, preso congedo da Alyosha, si avviò verso casa da Fyodor Pavlovich, ma stranamente fu assalito tutta un tratto da un'angoscia insopportabile, e quel che è peggio, a ogni passo più profonda, man mano che si avvicinava alla casa. La stranezza non risideva certo nell'angoscia in sé, quanto nel fatto che Ivan Fyodorovic non riusciva in alcun modo a definire su cosa si fondasse. Già altre volte gli era capitato di avvertire il peso dell'angoscia, e non c'è da meravigliarsi che se ne sentisse invaso proprio in quel momento in cui si accingeva a farla finita con tutto ciò che lo aveva condotto lì, e si preparava a dare una brusca svolta alla sua vita ad intraprendere un nuovo cammino completamente ignoto che lo avrebbe visto ancora una volta solo, per quanto poi nutrisse grandi speranze senza sapere in cosa, e si aspettasse molto, troppo, dalla vita. Egli tuttavia non sarebbe stato in grado di definire con precisione né le sue aspettative né tantomeno i suoi desideri. Eppure in quel momento, nonostante l'angoscia del nuovo e dell'ignoto fosse effettivamente presente nel suo animo, egli era attormentato da ben altro. Che sia un'avversione per la casa paterna, pensò tra sé. Probabile, tanto mi è venuta in odio, benché sia l'ultima volta che varco questa ignobile soglia, sono comunque preso dal disgusto. Ma no, non era neanche questo. Che fosse la sua separazione da Alioscia e il colloquio ho avuto con lui. Quanti anni avevo taciuto con tutti, senza degnarmi di pronunciare una sola parola, e all'improvviso ho affastellato così tante idiozie. Sarebbe stato naturale che lo avessero indispettito l'inesperienza e la vanità giovanile dimostrata nel non essere riuscito ad esporre in modo compiuto il suo pensiero a una creatura come Alioscia, peraltro, su cui faceva certo grande assegnamento nel suo intimo. Sì, sicuramente c'era anche questa forma di disappunto, anzi, non poteva non esserci, ma quella non era ancora la vera ragione. Mi sento angosciato fino alla nausea e non sono in grado di precisare ciò che voglio. Magari se non ci pensassi. Ivan Fiodorovic provò a non pensarci, ma a nulla valse. Ciò che più di tutto rendeva quell'angoscia così fastidiosa e irritante era il fatto che avesse un carattere quasi accidentale del tutto esteriore, egli lo sentiva. Doveva esistere da qualche parte qualcosa o qualcuno che urtava i suoi sensi, come quando a volte nel corso di un'attività o nel fervore della conversazione si continua ad avere davanti agli occhi qualcosa di cui non ci si accorge, ma che intanto esaspera visibilmente ed è quasi un tormento finché non si riesce a scostare l'oggetto sgradito, che spesso è solo una cosa futile e ridicola lasciata fuori di posto, un fazzoletto caduto a terra, un libro non riposto nella libreria, eccetera. Ivan Fiodorovic, di pessimo umore e irritatissimo, giunse infine alla casa paterna e, tutt'a un tratto, a una quindicina di passi dalla porta di servizio, vi gettò un'occhiata e comprese di colpo cosa lo avesse tanto tormentato e infastidito. La panca accanto alla porta era occupata dal servo Smerdiakov, tutto intento a godere della frescaria serale e Ivan Fiodorovic, comprese fin dal primo sguardo che Smerdiakov occupava anche i suoi pensieri ed era proprio quell'uomo ciò che la sua anima non poteva sopportare. Di colpo tutto si illuminò e divenne chiaro. Anche un attimo prima, mentre Aliosha raccontava il proprio incontro con Smerdiakov, un'oscura repulsione, gli era un tratto penetrata nel cuore e vi aveva subito suscitato un senso di profondo astio. Poi, durante il colloquio, Smerdiakov era stato accantonato per un po', ma gli era tuttavia rimasto nell'anima e appena Ivan Fiodorovic si era separato da Aliosha per tornare da solo verso casa, quella sensazione rimossa era di nuovo rapidamente affiorata. Ma è mai possibile che questo miserabile mascalzone riesca a rendermi così inquieto? Si domandò con intollerabile stizza. Il fatto era che negli ultimi tempi e soprattutto negli ultimi giorni Ivan Fiodorovic aveva elaborato una profonda antipatia per quell'uomo e gli stesso anzi aveva cominciato a percepire in sé questa crescente avversione per quell'essere e forse quel sentimento di odio si era tanto acuito in lui proprio perché all'inizio, appena Ivan Fiodorovic era arrivato nella nostra città, le cose erano andate ben diversamente. Allora Ivan Fiodorovic aveva subito provato una sorta di improvvisa simpatia per Smerdiakov e lo aveva anzi trovato molto originale. Lo aveva incoraggiato a discorrere con lui per quanto si meravigliasse sempre di una certa incoerenza o meglio di una certa irrequietezza del suo spirito e non riuscisse a capire cosa mai potesse assillare in modo così continuo e insistente la mente di quel contemplativo. Si tratteneva a parlare anche di questioni filosofiche e persino di come si spiegasse il fatto che la luce risplendette il primo giorno mentre il sole, la luna e le stelle furono creati solo il quarto e di come ciò si dovesse intendere. Ma Ivan Fiodorovic comprese ben presto che si trattava di ben altro che del sole, della luna e delle stelle. Il sole, la luna e le stelle potevano senza dubbio solleticare la curiosità di Smerdiakov ma erano di interesse del tutto secondario per lui e che egli ricercava qualcosa di completamente diverso. Sia come sia, certo è che aveva cominciato a manifestarsi e a delinearsi in lui un amor proprio senza confini e per di più ferito. Ivan Fiodorovic ne rimase molto dispiaciuto e fu questo che fece nascere in lui quella avversione. Più tardi in casa avevano avuto inizio i primi dissensi, era comparsa Grusenka, si erano presentati tutti quei problemi con il fratello Dimitri e ne erano seguite molte discussioni e si parlavano anche di questo ma per quanto Smerdiakov fosse sempre molto agitato quando si toccava quell'argomento non si era ancora riusciti a comprendere cosa egli desiderasse a tal proposito. C'era anzi di che stupirsi dell'insensatezza e della confusione di certi suoi desideri che involontariamente venivano a galla ma che tuttavia apparivano sempre poco chiari. Smerdiakov non faceva che informarsi, rivolgeva delle domande tortuose, evidentemente intenzionali ma senza spiegare il perché ed era solito tacere di colpo proprio al culmine del suo interrogativo oppure passare a tutt'altro argomento. Ma ciò che soprattutto aveva finito con l'irritare Ivan Fiodorovic e ispirargli quella avversione era quella singolare e sgradevole familiarità che Smerdiakov aveva cominciato a dimostrargli e che cresceva sempre più con il passare del tempo. Non che si permettesse di essere scortese anzi si rivolgeva a lui sempre con il massimo rispetto ma le cose avevano preso una piega tale che Smerdiakov evidentemente aveva finito col considerarsi io solo sa perché in qualche modo solidale con Ivan Fiodorovic e gli parlava sempre con un tono che lasciava pensare che tra loro due intercorresse ormai qualcosa di simile a un accordo segreto sottoscritto una volta da entrambe le parti e noto solo a loro quasi superasse la possibilità di comprensione di tutti i comuni mortali che li circondavano. Tuttavia Ivan Fiodorovic per molto tempo non aveva attribuito a questo fatto la vera causa della sua crescente repulsione e solo nell'ultimo periodo era finalmente riuscito a indovinare di cosa si trattasse. Con un senso di fastidio e irritazione volle quindi dirigersi in silenzio verso la porta senza guardare Smerdiakov ma Smerdiakov si alzò dalla panca e bastò questo gesto perché Ivan Fiodorovic intuisse in un attimo che egli desiderava da lui una conversazione a quattro occhi. Ivan Fiodorovic lo guardò e si fermò ma fu proprio il fatto di essersi fermato così improvvisamente invece di passare oltre come era sua intenzione solo un minuto prima che lo esasperò fino a farlo infuriare. Guardò con rabbia e disgusto la faccia smunta da Eunuco di Smerdiakov con che capelli arricciati sulle tempie e quel piccolo ciuffo sfuggente. Il suo occhio sinistro leggermente socchiuso ammiccava e sorrideva come per dire dove vuoi andare di certo non scappi sei bene che noi due persone intelligenti abbiamo qualcosa di cui parlare. Ivan Fiodorovic fremette. Scansati miserabile ho forse qualcosa che spartire con te idiota. Stava già per sfuggirgli di bocca ma con suo sommo stupore gli uscì di bocca tutt'altra cosa. Dorme ancora mio padre o si è svegliato? Chiese con un tono sommesso e rassegnato che suonò del tutto inatteso persino a lui e a un tratto in modo altrettanto inatteso sedette sulla panca. Per un istante ebbe quasi paura come ricordò in seguito. smerdiaco gli stava di fronte con le braccia dietro la schiena e lo guardava con sicurezza quasi con severità. Riposa ancora disse senza fretta e lui che per primo si è messo a parlare non io. Mi meraviglio di voi signore aggiunse dopo un attimo di silenzio abbassando gli occhi con una certa affettazione mentre metteva avanti il piede destro e giocava con la punta della scarpa di vernice. Perché ti meravigli di me? Si affrettò a rispondere bruscamente Ivan Fyodorovich facendo grandi sforzi per trattenersi ma di colpo comprese con disgusto che provava una vivissima curiosità e che a nessun costo si sarebbe allontanato senza averla soddisfatta. Perché signore non andate a Cermasnia? E smerdiaco alzò gli occhi e sorrise familiarmente. Perché ti abbia sorriso lo devi capire se sei una persona intelligente. Pariva dire il suo occhio sinistro socchiuso. E per quale motivo dovrei partire per Cermasnia? Si meravigliò Ivan Fyodorovich. Smerdiaco t'acque di nuovo per un po'. Lo stesso Fyodorovich ve ne ha pregato con tanto calore. Disse infine senza fretta e come aggiungendo ben poca importanza alla propria risposta. Me la cavo con una ragione di terzo ordine solo per dire qualcosa. Al diavolo! Parla più chiaro! Che cosa vuoi? gridò infine Ivan Fyodorovich passando dalla calma alla brutalità. Smerdiaco accostò il piede destro al sinistro, raddrizzò il busto, ma continuò a guardarlo con la stessa tranquillità con lo stesso sorrisetto. Nulla di importante, solo così per fare due chiacchiere, seguì un altro silenzio. Tacquero per quasi un minuto. Ivan Fyodorovich sapeva che ora avrebbe dovuto alzarsi e andare in collera, ma Smerdiaco gli stava davanti come se aspettasse. Io resto a guardare, ti arrabberai o no? Così almeno parve a Ivan Fyodorovich. Questi fece finalmente una mossa per alzarsi. Smerdiaco colse al volo quell'istante. Che terribile situazione è la mia, Ivan Fyodorovich, e non so neanche come trarmi d'impiccio, disse a un tratto con tono fermo e disinvolto e pronunciata l'ultima parola, sospirò. Ivan Fyodorovich tornò subito a sedersi. Sono completamente pazzi, si comportano alla stessa stregua dei bambini se non peggio tutti e due, proseguì Smerdiaco. Mi riferisco a vostro padre e a vostro fratello Dimitri Fyodorovich. Ecco che Fyodorovich si alzerà e non farà che chiedermi ogni momento perché non è venuta, come mai non è venuta, e così fino a mezzanotte, e anche oltre. E se a Grafina Aleksandrovna non verrà, perché probabilmente non ha nessuna intenzione di venire, domattina se la prenderà di nuovo con me. Come mai non è venuta, perché non è venuta, quando verrà, come se io ne avessi qualche colpa. E d'altra parte il medesimo ritornello all'imbrunire, se non prima, vostro fratello viene a cercarmi dai vicini con la pistola in mano. Attento, maledetto lavapiatti, mi dice. Se me la lasci scappare non mi fai sapere che è venuta, ammazzo te per primo. La notte passa e al mattino anche lui, come Fyodorovich, comincia a tormentarmi, perché non è venuta, si farà vedere presto, e di nuovo sembra quasi che sia colpa mia, se quella signora non è venuta. Ed entrambi si accaniscono sempre più, di giorno in giorno, di ora in ora, tanto che a volte penso persino di togliermi la vita dalla paura. Nutro ben poca fiducia in loro, signore. Ma perché ti sei intromesso? A che scopo hai cominciato a fare la spia a Dimitri Fyodorovich? Disse Ivan Fyodorovich irritato. Come avrei potuto non intromettermi? E poi non mi sono affatto intromesso, se proprio lo volete sapere tutta. Fin dal principio sempre tacciuto. Non mi sono mai permesso di replicare, ed è stato lui a fare di me il suo servo, il suo Licarda. Da allora non sa dirmi che questo ti ammazzo furfante se la lasci passare. Sono sicuro, signore, che domani avrò una lunga crisi di mal caduco. Come sarebbe lunga crisi? Un lungo, lunghissimo attacco, per parecchie ore, se non addirittura un giorno o due. Una volta durò tre giorni, quando caddi dal solaio. Cessava e poi ricominciava, e per tre giorni interi non potei tornare in me. Fyodorovich allora mandò a chiamare Enzer Stube, il dottore di qui, e quello mi fece mettere del ghiaccio sulle tempie, e impiegò anche un altro mezzo. Sarei potuto anche morire, sapete. Ma si dicono che non è possibile prevedere quando verrà un attacco di mal caduco. Come puoi dire che ti verrà domani? Si informò con viva e irritata curiosità Ivan Fyodorovich. È vero che non si può prevedere. Inoltre, quella volta tu eri caduto dal solaio. Sul solaio ci salgo ogni giorno, e potrebbe succedermi anche domani di cadere da lì. Se non dal solaio, potrei cadere giù in cantina. Anche lì ci vado tutti i giorni, per le mie faccende. Ivan Fyodorovich lo guardò a lungo. Tu stai vaneggiando, vedo, e non riesco a capirti bene, disse a bassa voce, ma con tono minaccioso. Hai forse intenzione di simulare una crisi per tre giorni, eh? Smerdiakov, che guardava a terra, ed era tornato a giocherellare con la punta della scarpa destra, posò il piede a terra. Fece avanzare il sinistro, alzò il capo, e con un sorrisetto beffardo rispose, se anche fossi in grado di giocare questo tiro, ovvero simulare un attacco, dato che la cosa non è affatto difficile per una persona esperta, avrei tutto il diritto di valermi di questo mezzo per salvarmi la vita, perché, se fossi a letto malato, e a grafen Alexandrova raggiungesse suo padre, egli non potrebbe più domandare a un malato perché non me l'hai riferito. Sarebbe il primo a vergognarsene. Al diavolo! Lo investì d'improvviso Ivan Fyodorovich con il volto contratto dalla rabbia. Possibile che tu tremi sempre per la tua vita. Tutte le minacce di mio fratello Dimitri non sono che parole sconsiderate, nient'altro. Non è te che ammazzerà. Ammazzerà qualcuno, ma non te. Mi schiaccerà come una mosca, e prima di chiunque altro, ma più temo un'altra cosa ancora, che mi accusino di complicità con lui se commetterà qualche follia contro suo padre. Perché dovrebbero crederti suo complice? Mi crederebbero suo complice perché gli ho rivelato in gran segreto certi segnali. Che segnali? A chi li hai rivelati? Che il diavolo ti porti? Parla più chiaro! Sono costretta ad ammettere, pronunciò lentamente Smerdiakov con pedante compostezza, che c'è un segreto tra me e Fyodorovich. Come voi stesso potete sapere, ammesso che davvero lo desideriate. Sono già parecchi giorni che al calare della notte, o addirittura della sera, egli si rinserva subito in casa. In questi ultimi giorni voi vi ritirate sempre presto in camera vostra, al piano di sopra, anzi ieri non siete neanche uscito, e perciò forse ignorate con quanta cura adesso si chiuda in casa la sera. Se venisse Grigori Vasilievich, probabilmente gli aprirebbe, ne riconoscerebbe la voce, ma Grigori Vasilievich non viene. Perché ora sono il solo a servirlo nelle sue stanze, lo ha deciso egli stesso, da quando ha avuto inizio questo intrigo con Agrafena Aleksandrovna. E così adesso la sera, secondo le sue disposizioni, mi allontano anch'io e passo la notte nel padiglione, con l'incarico però di non dormire, di restare di guardia fino a mezzanotte e di alzarmi per fare il giro del cortile, in attesa che arrivi a Grafen Aleksandrovna, dato che sono parecchi giorni ormai che egli l'aspetta febbrilmente. Così ragiona. Lei lo teme, dice, teme, Dimitri Fiodorovice, egli lo chiama Mitka e quindi verrà da me a notte fonda, passando per il cortile. Tu dunque, mi dice, stai in guardia fino a mezzanotte, anche più tardi, e se viene, corri alla mia porta e dal giardino bussa con la mano alla porta o alla finestra, prima due volte, piano. Così. E subito dopo tre volte più in fretta. Così. Dice. Capirò subito. È arrivata e ti aprirò pian piano la porta. Mi ha dato un altro segnale per il caso che capiti qualcosa di straordinario. Prima due colpi in fretta. Poi, dopo una piccola pausa, un altro colpo, molto più forte. Così lui capirebbe che è successo qualche fatto imprevisto e che ho urgente bisogno di vederlo. E anche in questo caso mi aprirebbe, perché possa entrare a riferirgli ogni cosa. Questo nel caso che Agrafen Aleksandrovna non abbia la possibilità di venire di persona e mandi qualche messaggero. Inoltre potrebbe venire Dimitri Fiodorovic e anche in questo caso dovrei avvisarlo del suo avvicinarsi. Egli ha molta paura di Dimitri Fiodorovic. A tal punto che anche qualora Agrafen Aleksandrovna fosse venuta ed egli si fosse chiuso dentro con lei, anche in quel caso. Se Dimitri Fiodorovic si facesse vedere nelle vicinanze avrei l'obbligo di avvertirlo picchiando tre volte. Il primo segnale di cinque colpi significa dunque Agrafen Aleksandrovna è venuta. E il secondo di tre colpi, cosa urgente, lui stesso mi ha spiegato la faccenda più volte con esempi e dal momento che nessuno al mondo sa di questi segnali eccetto noi due, e gli mi aprirà senza la più piccola esitazione, senza essere neanche costretto ad emettere una sola parola dato che ha molta paura di farsi sentire. Ecco sono questi i segnali di cui adesso è a conoscenza anche Dimitri Fiodorovic. Come fa a conoscerli? Glieli hai comunicati tu? E come ti sei permesso di fare una cosa del genere? Sempre per paura. E come mi sarei potuto permettere di tacerglieli? Dimitri Fiodorovic insisteva ogni giorno. Tu mi inganni? Cosa mi nascondi? Ti romperò entrambe le gambe. Fu allora che gli rivelai questi segnali segreti perché potesse così constatare la mia sottomissione e si accertasse che non lo ingannavo ma lo informavo invece di ogni cosa. Se credi che possa approfittare di quei segnali e che intenda entrare impediscilo. Ma se fossi a letto per l'attacco come potrei impedirgli di entrare anche ammettendo che ne avessi il coraggio sapendolo così violento. E diavolo perché sei così sicuro che ti verrà il mal caduco? Che il diavolo ti porti? Ti burli di me? Come oserei burlarmi di voi e che voglia ne avrei con la paura che ho? Sento che avrò un attacco ne ho il presentimento la paura stessa me lo farà venire. E diavolo se sarai a letto farà la guardia Grigori avvertilo in tempo e lui gli impedirà di entrare. Senza un ordine del padrone non oserò mai comunicare i segnali a Grigori Vasilievic. Quanto poi a quel che dite che Grigori Vasilievic sentendolo arrivare gli impedirebbe di entrare dovete sapere che proprio oggi egli si è ammalato a causa degli avvenimenti di ieri e Marfa Ignazievna ha intenzione di curarlo domani. È così che hanno deciso poco fa. Si tratta di un sistema di cura assai bizzarro. Marfa Ignazievna custodisce una certa infusione molto potente a base di non so che erba. È un suo segreto. Somministra questo misterioso rimedio a Grigori Vasilievic circa tre volte l'anno quando gli viene la lombagine che lo fa restare come paralizzato. Sì, cerca tre volte l'anno. Marfa Ignazievna allora prende un asciugamano, lo impregna con quell'infusione e gli strofina la schiena per mezz'ora finché l'asciugamano non torna asciutto e la schiena non diventa tutta arrossata e gonfia. Poi gli fa bere quanto rimane nella boccetta accompagnandolo con una certa preghiera ma non gliela dà tutta perché in quelle rare occasioni una piccola parte la tiene per sé e la beve. E dal momento che non bevono mai vi assicuro che entrambi cadono subito in un sonno profondissimo e dormono per molto tempo e quando si destano Grigori Vasilievici è quasi sempre guarito mentre Marfa Ignazievna si ritrova ogni volta con il mal di testa. E così se domani Marfa Ignazievna porterà a termine questo suo proposito è estremamente improbabile che essi potranno sentire qualcosa e impedire a Dimitri Fiodorovic di entrare. Dormiranno. Ma che groviglio e neanche a farlo apposta tutto si combinerà nello stesso momento tu avrai l'attacco mentre quei due perderanno i sensi esclamò Ivan Fiodorovic ma non sarai stato tu stesso piuttosto a disporre le cose in modo che si verifichino così. Gli sfuggì a un tratto e aggrottò minacciosamente le sopracciglia. Come potrei disporle ma soprattutto perché quando qui tutto dipende soltanto da Dimitri Fiodorovic e dalle sue intenzioni se vorrà fare qualcosa lo farà altrimenti non sarò certo io a spingerlo di mia volontà da suo padre. Ma perché dovrebbe venire da suo padre e di soppiatto per giunta se anche tu sei convinto del fatto che agrafen alexandrova non si farà mai viva continuò Ivan Fiodorovic pallido di rabbia. Sei tu stesso a dirlo e anch'io stando qui sono giunto alla conclusione che il vecchio non faccia che vaneggiare e che quella creatura non andrà mai da lui. Perché dovrebbe Dimitri irrompere in casa del vecchio se quella non verrà? Parla! Voglio conoscere il tuo pensiero. Lo sapete anche voi perché verrà. Cosa c'entra quel che penso io? Verrà spinto dalla sua rabbia oppure dalla diffidenza. Ad esempio nel caso che Yokada ha ammalato si farà prendere dai sospetti e dalla smania di cercare nelle stanze come ieri per controllare che non sia entrata su insaputa e sa perfettamente che Fiodor Pavlovich ha preparato una grossa busta con dentro 3000 rubli chiusa con tre sigilli e legata con un nastrino con su scritto di proprio pugno al mio angelo a Grusenka se vorrà venire da me. E l'altro giorno sotto ad angelo ci ha persino aggiunto nonché mia pollastrella ecco un'altra cosa che rende perplessi. Idiozie gridò Ivan Fiodorovich quasi fuori di sé. Dimitri non verrà a sottrarre quel danaro e meno che mai ad ammazzare suo padre avrebbe potuto ucciderlo ieri per Grusenka come un imbecille arrabbiato e furioso ma non verrà a rubare. Adesso ha un gran bisogno di danaro. Ne ha un estremo bisogno Ivan Fiodorovich. Voi non potete neanche immaginare fino a che punto spiegò Smerdiakov. Inoltre pensa che quei 3000 rubli gli appartengano di diritto. Me lo ha confermato lui stesso. Mio padre mi deve ancora 3000 rubli esatti. E infine considerate Ivan Fiodorovich anche questa semplice verità. E quasi certo non c'è che dire che se solo Agrafena Aleksandrovna lo volesse saprebbe costringerlo a sposarla. Il padrone intendo. Fiodor Pavlovich. Basta che lei voglia. Ma può anche darsi che capiti. Io ho sempre detto che non sarebbe venuta solo così per dire ma forse lei mira a ben altro e cioè a diventare in men che non si dica una signora. So per certo che il suo mercante Samsonov le ha detto in tutta sincerità che non sarebbe affatto un cattivo affare e intanto rideva. E anche lei è tutt'altro che sciocca. Non c'è alcuna ragione per cui debba sposare un pezzente come Dimitri Fiodorovich. E quindi potete valutare da voi Ivan Fiodorovich che in tal caso alla morte di vostro padre non rimarrebbe un bel niente né a Dimitri Fiodorovich né a voi né a vostro fratello Alexei Fiodorovich. Nemmeno un centesimo perché Agrafena Aleksandrovna lo sposerebbe per farsi cedere ogni cosa o ogni rublo in suo possesso. Se invece vostro padre morisse adesso che tutto ciò non si è ancora verificato dal momento che non ha fatto testamento a ciascuno di voi spetterebbero subito 40.000 rubli. E tutto questo Dimitri Fiodorovich lo sa molto bene. Il volto di Ivan Fiodorovich ebbe come una smorfia e un tremito e di colpo arrossì. Ma allora per quale ragione? Dopo tutto ciò, disse bruscamente a Smerdiakov, mi consigli di partire per Cermasnia. Che significato ha? Se me ne andrò ecco cosa accadrà. Ivan Fiodorovich respirava affannosamente. Appunto, replicò Smerdiakov con tono pacato e ragionevole, ma senza distogliere mai lo sguardo da Ivan Fiodorovich. Come appunto, ripeté Ivan Fiodorovich frenandosi a stento e con un minaccioso scintillio negli occhi. Vi ho parlato perché la vostra situazione mi rammarica profondamente. Se fossi nei vostri panni, mallerei tutto. Perché ostinarsi in una simile posizione? Rispose Smerdiakov, guardando con la più profonda franchezza gli occhi ardenti di Ivan Fiodorovich, tacquero entrambi. A quanto pare sei un perfetto idiota, ma soprattutto un terribile mascalzone. E Ivan Fiodorovich si alzò di colpo dalla panca, quindi si mosse per infilare subito la porta, ma a un tratto si fermò e si girò di nuovo verso Smerdiakov. E qui successe un fatto strano. Ivan Fiodorovich si morse ripetutamente il labbro come in uno spasmo, serrò i pugni e ancora un minuto e si sarebbe senz'altro scagliato su Smerdiakov. Costui però se ne avvide in quello stesso istante, sussultò e indietreggiò con tutto il corpo, ma quel minuto trascorse, ma quel minuto trascorse senza conseguenze per Smerdiakov e Ivan Fiodorovich si voltò in silenzio, quasi perplesso, verso la porta. Domani parto per Mosca, se ci tieni a saperlo, domattina presto, e questo è quanto, disse un tratto ad alta voce, scandendo rabbiosamente le parole, per poi chiedersi con stupore che bisogno avesse avuto di comunicare questa notizia a Smerdiakov. È la cosa migliore, replicò Costui come se non aspettasse altro, anche se a Mosca vi si potrebbe pur sempre scomodare con un telegramma nel caso succeda qualcosa qui. Ivan Fiodorovich si fermò di nuovo e tornò a voltarsi rapidamente verso Smerdiakov, ma ecco quello che era avvenuto in Costui. Ogni sua familiarità e non curanza era istantaneamente scomparsa, tutto il suo viso esprimeva un'attenzione e un'aspettativa estrema, ma ormai timida e servile come a dire non mi dirai altro, non hai nulla da aggiungere. Ecco ciò che si leggeva nel suo sguardo fisso attaccato a Ivan Fiodorovich. Perché? Da Cermasnia non mi mandereste a chiamare lo stesso se capitasse qualcosa di simile? Gridò in tutta risposta Ivan Fiodorovich, alzando tremendamente la voce chissà perché. Ma anche a Cermasnia vi si scomoderebbe, mormorò Smerdiakov quasi sussurrando e come smarrito ma continuando a guardare Ivan Fiodorovich fisso negli occhi. Solo che Mosca è lontana mentre Cermasnia è vicina. È per evitare delle spese di viaggio troppo esose che insisti tanto con Cermasnia o per evitare che mi spenda in inutili giri? Appunto, mormorò con voce ormai rotta e un abietto sorriso Smerdiakov già pronto a balzare all'indietro con uno scatto convulso. Ma Ivan Fiodorovich con sommo stupore di Smerdiakov scoppiò in una risata e infilò rapidamente la porta continuando a ridere. Chi avesse dato un'occhiata al suo volto avrebbe certamente concluso che egli non rideva per un eccesso di allegria e d'altra parte egli era il primo a non saper spiegare in nessun modo cosa stesse avvenendo in lui in quel momento. Si muoveva e camminava come in preda alle convulsioni.